Si sono conclusi ieri gli scavi stratigrafici presso l'area archeologica di Pestum, alle spalle del Tempio di Nettuno. Gli scavi iniziarono lo scorso 17 ottobre per raccogliere nuovi dati sulla vita intorno ai templi con i due borsisti Francesca Luongo e Francesco Scelza. Nel corso delle ultime ricerche è stato individuato quello che sembra essere il limite occidentale di una domus greca, su cui gli archeologi si sono concentrati nel corso delle ultime settimane. Scoperta decisiva per la definizione delle caratteristiche della struttura arcaica. Si tratta di un edificio di cui è possibile calcolare le dimensioni e gli orientamenti. Il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtrigel dà appuntamento al prossimo 3 febbraio presso il Museo di Pestum per la presentazione pubblica dei risultati emersi dalla campagna di scavo.